Ancora un incidente mortale nella giornata di venerdì 18 agosto, è accaduto intorno alle 16 in frazione Argentera a Rivarolo Canavese. Un giovane, Andrea Battisti, 26 anni, di Ozzegna, che viaggiava con il suo scooter da frazione Pasquaro verso Argentera, è uscito di strada, andando a scantarsi con violenza contro il guardrail che delimita la roggia, che scorre a fianco alla careggiata. Il giovane è finito a terra, mentre il scooter, saltando il guardrail, ha fermato la sua corsa contro il muro, vicino al ponte, in mezzo alle arbusti. Sul posto sono prontamente intervenuti la croce rossa di Rivarolo Canavese, l'elisoccorso del 118, la polizia locale e i carabinieri di Rivarolo. Purtroppo per il giovane era già troppo tardi. Il medico non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso. Ora sono in corso gli accertamenti sulle cause del sinistro.